Musica Ragazzi e ragazze, diamo il benvenuto agli MK Ultra Bene, ieri vi abbiamo fatto ascoltare tre dei nostri inediti tratto dal nostro EP Oggi promorremo due brani che abbiamo suonato ieri più uno nuovo Quindi vediamo qua Grazie No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no.